Buongiorno a tutti, ci troviamo a Torino, la prima città dotata del Microsoft Tag, un'applicazione utilissima soprattutto per i turisti, un'applicazione in grado di descrivere e mostrarci tutte le maggiori caratteristiche dei monumenti europei e del mondo. Ci troviamo qui a Torino di fronte a Palazzo Madama per mostrare la funzionalità di questa nuova applicazione. Un'applicazione che funziona in modo semplicissimo, infatti dopo aver scaricato il Tag Reader, un programmino gratuito dal sito della Microsoft, sarà sufficiente inquadrare con l'obiettivo della fotocamera il tag di ciò che vogliamo conoscere in maniera più approfondita. E il gioco è fatto! Grazie alla connessione 3G del cellulare riceveremo le informazioni senza dover fare più nulla. Il progetto è stato sviluppato da Turismo Torino e Provincia e MediaKey.it. Torino è stata ribattezzata la prima città taggata a colori del mondo, proprio grazie ai mille pallini colorati che formano il Tag. Come abbiamo visto questa applicazione è utilissima soprattutto per il nuovo fenomeno del turismo sul web. È ancora in fase di sviluppo, infatti l'unica pecca di questa nuova applicazione è la lentezza, ma sicuramente con le nuove generazioni, soprattutto degli smartphone, si troverà una soluzione a questo piccolo problema. Con questo concludiamo e buona serata a tutti!